Gara di andata, playoff nazionali, il Dattilo prova a scrivere la storia affrontando il Castrovillari, società molto blasonata con trascorsi tra i professionisti, giornata di sole e tribuna gremita. Prova subito il Dattilo al quinto con una buona azione, incursione in aria, ma la sfera termina in angolo. Al diciassettesimo ci prova ancora il Dattilo con un calcio piazzato di Fina, la pennellata al centro ma il tiro risulta essere alto. In campo c'è solo il Dattilo che continua a pigiare sull'acceleratore al ventiduesimo, altra azione pericolosa con un batti e ribatti in aria senza però che la squadra di casa trovi il tap-in vincente. Al ventinovesimo inaspettatamente il Castrovillari passa in vantaggio con una fulminazione di contropiede sulla sinistra ed il perfetto assist per Canale, che non sbaglia. Al trentasettesimo il Dattilo prova a ristabilire le distanze. Ottimo pallone scodellato al centro ma incredibilmente Iannazzo calcia alto. Con le riprese di Peppe Maltese passiamo al racconto del secondo tempo con uno Castrovillari molto più presente in campo e un Dattilo molto frenetico che perde tanti palloni a centrocampo. In uno di questi al ventunesimo grande azione per il Castrovillari ma Grimaudo impnotizza Catania. Al trentaduesimo la squadra di casa parviene al pareggio. Grande pallone di Jovino per Bono delizioso il suo pallonetto che trafigge il portiere avversario ristabilendo le distanze e il mancuso di Paceco esplode letteralmente. Al quarantesimo un calcio d'angolo per il Castrovillari con tiro finale di Canale che però risulta essere centrale e viene abbrancato da Grimaudo. Non accade più nulla, termina uno a uno l'incontro. Adesso tutto si deciderà tra sette giorni a Castrovillari.